Vi siete mai chiesti cosa c'è sotto la superficie del reale? Dietro la maschera delle apparenze? Nel polpettone di ieri sera? Perché sul serio non l'ho ancora digerito? Noi siamo qui per rispondervi! Il mistero sarà vero, io ci credo! Iniziamo con uno dei misteri più turbanti dell'anno. Macabro. È un tipo strano, lo sapete tutti. Ma forse è qualcosa di più. Forse è... Un vampiro! Noi di CMSVCC abbiamo trovato ben tre indizi. Primo, veste sempre di nero. Tecnicamente è più un blu notte invernale, ma... Mette comunque i brividi. Secondo indizio, non sopporta l'aglio nel sugo al pomodoro. Terzo, rifiuta di farsi colpire con un paletto di frassino. Sospetto. Per andare a fondo in questa vicenda abbiamo un inviato nella stanza di Macabro. O forse dovrei dire l'oculo. Albain, ci sei? Eccomi in diretta dalla stanza di Macabro. O dovrei dire l'oculo. L'ha già detto scossa. Vedi qualcosa di strano? Qualcosa? L'asticella del mio sensore di misteriosità è già schizzata alle stelle. Guardate qua. Ragnatele! Che bicchieri usati, amici! Sappiamo tutti che i vampiri hanno scarso senso dell'igiene. Sembrerebbero prove schiaccianti, Albain. C'è altro? La tendina del letto è chiusa. Chi dorme in pieno giorno, ben al riparo dalla luce del sole? Già, chi se non il signore delle tenebre? Albain, apri quella tenda! Ci siamo, ragazzi! La mano è gelida. Sembra... Albain! Aspetta! Macabro non può essere davvero un... Vampiro! E il video di Halloween ce l'abbiamo! Festa un po' commerciale, ma... Lugubre al punto giusto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e soprattutto condividetelo. Succo d'arancia? Wow!